Il Tedi fa due cose principalmente, la prima è quella di portare cultura digitale sul territorio, ce l'abbiamo fatto attraverso l'organizzazione di oltre 50 appuntamenti quest'anno, tra seminari e workshop e partecipato ad eventi tematici. L'altra cosa che facciamo è il network e abbiamo creato in un anno il più grande network di aziende digitali innovative della regione e oggi oltre 100 aziende fanno parte di Tedi e si occupano di software, hardware, app per dispositivi mobili, qualsiasi cosa si possa pensare in campo digitale. Oggi siamo qui a Business on Open, un evento che è il secondo anno che stiamo portando avanti, parliamo di open source, in particolar modo quest'anno di come l'open source scende nell'economia reale e si trasforma in prodotti tangibili, in prodotti innovativi, cosa che le aziende, le nostre aziende tengono molto in considerazione, ecco la grande partecipazione che abbiamo avuto e vogliono fare innovazione nuova, di tipo nuovo, di tipo collaborativo, in modo aperto e libero e sempre disponibile.